Siamo tornati in Via Laurentina, sto attraversando il cavalcavia, scendo le scale e finalmente i nostri amici che transitano da queste parti possono passare senza essere punti da quelle bruttissime spine che avevamo trovato nel nostro precedente servizio. Guardate, dobbiamo ringraziare Ama ed in particolare una squadra che si occupa di grandi bonifiche. L'unità grandi bonifiche di Ama ha provveduto ad estirpare tutti quei bruttissimi e pericolosissimi rovi che avevamo trovato qui in Via Laurentina, a ridosso della fermata del bus. Finalmente è stata ripristinata la sicurezza dei cittadini e soprattutto è stata bonificata l'intera area in quanto hanno asportato tutte le sporcizie che si erano ormai accumulate nel tempo. Ringraziamo Ama, unità grandi bonifiche, ringraziamo il Presidente Santoro che ha saputo accogliere non solo questa nostra segnalazione ma anche un'altra segnalazione di una piccola discarica poco più avanti. Ed in questo punto c'era una grande discarica con materassi, molte immondizie e soprattutto tanti cavi elettrici abilmente spellati dopo aver asportato il rame. Ora l'area è stata tutta bonificata, da Via Laurentina è tutto, apponiamo un nuovo timbro fatto, ci vediamo su un nuovo servizio.